12 anni schiavo è un film del 2013 diretto da Steve McQueen. Questo film è basato sull'autobiografia di Solomon Northrop, in questo film interpretato da Chiwetel e Joffre, e qui abbiamo modo quindi di scoprire la storia di questo uomo nero, questo uomo nero che avrebbe pubblicato in realtà questa sua autobiografia nel 1853 che comincia per l'appunto una dozzina di anni prima. Stiamo partendo dal 1841 all'inizio di questo film, e quindi abbiamo modo di vedere Solomon che, assieme alla famiglia, una moglie e due bambini, se non erro, vive in una condizione abbastanza agiata. È un uomo libero, in un frangente in cui la schiavitù dei neri ancora perpetua. Cosa accade? Accade che due malintenzionati con una stratagemma, e possiamo dirlo di fatto in qualche misura adurando un pochettino Solomon e apparentemente ingaggiandolo, dato che lui è un abile soldatore di violino, ad un certo punto lo bleffano, lo bleffano, e gira che ti rigira, il nostro Solomon finirà in catene. Finirà in catene, finirà che lui dovrà rinnegare la sua reale identità, comincerà a essere a poco a poco chiamato sempre di più plot per l'appunto, e finirà nei campi. Comincia quindi una vera e propria epopea, un'epopea durata una dozzina di anni, in cui Solomon, per l'appunto, dovrà andare avanti. Ci saranno vari proprietari, uno più brutale dell'altro in realtà, ci sarà soltanto occasionalmente qualche frangente un pochettino più felice, ma di fatto in realtà la felicità veramente latiterà, e in generale la libertà latiterà per veramente tanto tanto tempo, o prima che il nostro, possa infine, per l'appunto, ritornare a essere quel Solomon che era all'inizio di questa storia. È un film questo che io ho avuto modo di vedere all'epoca, alla sua uscita, e devo essere sincero, in realtà non è mai stata una visione che particolarmente mi abbia in qualche misura lasciato qualcosa, o perché no, una visione questa che io potessi annoverare a fare le mie preferite, non per un discorso di insensibilità alla tematica dell'odio razziale né a fatti specie, alla schiavitù, ma perché in generale la messa in opera di questa storia non era un qualcosa che aveva mai fatto particolarmente breccia nel mio cuore. Qui di nuovo mi metto ad affrontare questo film, siccome ho deciso di recuperare la filmografia di Steve McQueen, e devo essere sincero, malgrado il mio giudizio per certi versi possa in qualche misura essere cambiato, oggi a che ti rigira questo film, nonostante sappia che abbia avuto un grande riscontro di pubblica critica, è un qualcosa che non riesce davvero a entrare nelle mie corde. Perché questo? Fondamentalmente tutto quello che ho modo di vedere, secondo me, è gestito da un certo punto di vista in maniera sbagliata. Quale punto di vista di fatto? Per tutto quello che concerne il ritmo. Secondo me quello che boicotta in maniera potentissima praticamente ogni aspetto di questo film, salvo dei piccoli frangenti, quando magari ci sono le scene più efferate, con le frustate, inizialmente Solomon, e successivamente il personaggio di Lupita Nyong'o, abbiamo veramente dei frangenti in cui non c'è la possibilità di avere abbastanza tempo per godere di un momento di relativa calma, di un momento di grande terrore, di un momento di orrore proprio, magari di sofferenza. Sinceramente questo film, secondo me, da questo punto di vista, è veramente un buco nell'acqua. In generale, sinceramente, non sono riuscito ad apprezzare particolarmente l'interprete principale, Chiwetel e Joffor, salvo in alcuni piccoli frangenti, ovvero sia all'inizio di questo film, quando c'è il risveglio di lui, con una sequenza che forse è quella che ho preferito più di tutte, ovvero sia il risveglio in catena e in questa oscurità, e poi successivamente forse alla fine. In generale è, secondo me, un interprete e Joffor che veramente, per certi versi, si fa rubare la scena. Ma si fa rubare la scena da chi? Da altri interpreti che in realtà sono molto più interessanti, per certi versi, pur avendo anche loro comunque alle volte un minutaggio un po' limitato, secondo me. Quali sono gli interpreti che mi sono rimasti maggiormente? Sinceramente, l'interprete che maggiormente penso di annoverare fra i miei preferiti in questo frangente è l'interprete del capo schiavista, inevitabilmente, Edwin Epps, ovvero sia Michael Fassbender. Fassbender, che in realtà è un casting ricorrente nei film di Stephen McQueen, è questo personaggio che, secondo me, riesce veramente a trasmettere che cosa? Trasmette una certa, se vogliamo, follia, per certi versi, una certa passione malsana, una certa isteria, anche perché no, legata per l'appunto al suo rapporto nella fattispecie, soprattutto con un personaggio, il personaggio di Pazzi, Lupita Nyong'o, per la quale nutre una vera e propria, in qualche misura, infatuazione. Un'infatuazione perversa, che in realtà lo fa essere assolutamente dominante, soprattutto, inevitabilmente, nel frangente dello stupro, per l'appunto, ed in realtà questo è un frangente che, nelle dinamiche, perché no, familiari, lo porta anche ad avere dei problemi, o perché no, lo porta anche ad avere dei problemi con gli altri che eventualmente si relazionano con Pazzi. Questa, per certi versi, sua pupilla. Una pupilla interpretata dall'altra interprete, che ha nove offerie principali in questo frangente, che è Lupita Nyong'o. Sinceramente, la sua interpretazione l'ho trovata estremamente suggestiva, soprattutto non nei piccoli frangenti in cui tira fuori, per certi versi, il suo dramma, ma soprattutto nei momenti in cui, invece, è assolutamente impassibile. Con la sua impassibilità riesce a trasmettere, secondo me, questo interprete, molto il travaglio del personaggio, questo suo volere, in qualche misura, creare un muro percettivo che le rende impossibile, di fatto, in qualche misura, forse, percepire davvero quello che le sta accadendo ed è un qualcosa di terribile. In generale, ci sono un sacco di momenti terribili in questo frangente, momenti terribili che, solitamente, possiamo dirlo, accadono al protagonista Solomon, però G.H.T. gira, come ho detto, l'interpretazione di questo C.W.T. al Jofor non è riuscita a entrarmi sinceramente dentro. In generale, secondo me, ci sono anche alcuni altri momenti, un pochettino, insoddisfacenti, sempre legati, di fatto, inevitabilmente, un pochettino a quello che è il ritmo della narrazione. Ad esempio, far piombare ad un certo punto un personaggio interpretato da Brad Pitt che poi, in realtà, ha avuto modo, cercando un pochettino su internet, di comprendere come fosse un personaggio storicamente anche rilevante, questo Samuel Bass, farlo piombare, possiamo dirlo, un po' improvvisamente verso la fine del film e poi farlo ritornare dopo un momento, un piccolo frangente in cui è assente, sinceramente avrei dosato il tempismo, diciamo, per questo personaggio che sarebbe stato così rilevante poi per far ottenere a Solomon la libertà un pochettino meglio. D'altro canto, in realtà, basti pensare, ad esempio, anche alla prima parte di questo film in cui abbiamo la prima prigionia, se vogliamo, o una delle prime prigionie sotto questo William Ford, se non erro, si chiamava il personaggio interpretato dal mio caro Benedict Cumberbatch, questo padrone in qualche misura forse più buono di tutti gli altri, ma comunque è sempre uno schiavista, non stiamo parlando di uno stinco di santo assolutamente e alla fine, per motivi di soldi in qualche misura, deciderà di lasciare il personaggio di Solomon per l'appunto a qualcuno che molto probabilmente lo tratterà molto male, laddove lui, se veramente fosse stato mosso a pietà così come in alcuni frangenti è stato, forse avrebbe potuto lasciarlo libero e via, ma così non è stato inevitabilmente. Lasciarlo libero da che cosa? Dai tanti che a poco a poco in realtà che la staranno avanti occasionalmente magari manifesteranno che cosa? Manifesteranno in sofferenza per questo personaggio che fin della prima battuta possiamo dirlo in qualche misura è un pochettino ribelle e d'altro canto poi in realtà ad un certo punto in qualche misura si adatta alla nuova situazione. però Gia che ti rigira per certi versi questo suo fare ribelle ogni tanto rispunta fuori è anche comprensibile questo però in alcuni frangenti sinceramente avrei calcato un pochettino di più la mano sulla violenza sul dramma e in qualche misura sul problema che il personaggio poteva avere nel cercare ad un certo punto di ribellarsi perché vedere questo personaggio che così tanto e anche così fisicamente si contrasta con quelli che sono i suoi carcerieri i suoi schiavisti eccetera è un qualcosa che secondo me depotenzia un pochettino tutto quello che è il dramma che dovrebbe essere portante di tutto quello che vediamo di fatto secondo me con un ritmo del genere con una gestione così delle dinamiche legate alla ribellione il dramma viene meno e se mi fai venire meno il dramma in un contesto come è quello di un film che tratta il tema della schiavitù del razzismo o quant'altro sinceramente allora mi viene da dirti che di fatto hai fatto giusto un compitino un compitino che so essere stato molto apprezzato in determinati ambienti anche dell'academy gli oscar e quant'altro ma sinceramente secondo me almeno per quello che è il mio gusto personale e la mia percezione dare un pochettino più di respiro a certe scene non fare un film che vola via che è una bellezza ma fare un film che invece per certi versi può risultare un pochettino più lento un pochettino più pesante dare la possibilità al pubblico di patire un pochettino di più assieme ai personaggi forse avrebbe permesso a questo film 12 anni schiavo di Steve McQueen innanzitutto di essere un film migliore a mio dire e soprattutto si spera di piacermi un pochettino di più di fatto questo film tratto dall'autobiografia è un qualcosa secondo me di un pochettino modesto che non mi sento di giudicare completamente in maniera negativa non è un film brutto per capirci ma secondo me è un film che poteva dare molto di più soprattutto con quello che era il suo detto portante che purtroppo storicamente e anche narrativamente poteva essere veramente un pugno allo stomaco questo film questo pugno secondo me non l'ha dato sinceramente e quindi mi sento sì di segnalarlo ma non di consigliarlo chissà quanto perché secondo me c'è di meglio da vedere anche purtroppo con tutto quel dramma e quell'orrore legato alle tematiche trattate